Buongiorno ragazzi, episodio 188, ore 13.58, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Oggi configurazione innovativa, forse tra le migliori mai provate, non è che ne avrei provate tante, ne ho provate due in macchina e camminando per il giardino con un vento folle. Quindi questa è la migliore di sicuro, vero seduto in salotto con davanti il computer, il computer che sto usando per, come sentirete, esatto, no, non sto scrivendo un post, sto acquistando delle azioni col portafoglio Plus, quindi sto, ho avvisato il mio personal finance advisor e lui mi sta mandando gli ordini da provare, quindi devo stare al computer e attendere. Ogni ordine, siccome ho acquistato 4 azioni singole, ogni acquisto deve essere approvato dal sito, quindi sono qui che attendo di ricevere le comunicazioni, l'accetto e mi viene l'azione, mi appare nel portafoglio. Allora, intanto la prima cosa che ho scoperto che aggiorno qui è che ci sono i costi dello 0,7% che vengono addebitati subito all'acquisto. Infatti non capivo perché ci fosse quel costo di pochi decine di centesi, però non lo capivo perché si aveva detto che era tutto gratis, quindi il personal finance advisor mi ha chiarito che è lo 0,7%, quindi apposto così e si va, quindi sto per acquistare 4 azioni, magari scriverò un articolo dove dico cosa ho comprato e perché. Un'altra cosa che vado a controllare in tempo reale, visto che sono al computer, è il numero di ascolti. Vediamo su Anchor, loghiamoci e vediamo se abbiamo superato 4-8 mila in diretta. Sale la tensione, collegamento a internet, sempre veloce. Sta caricando la pagina, sta caricando la pagina, sta caricando la pagina. Parte piuttosto noiosa del podcast. Quanto lento è, è incredibile. Vabbè, intanto sta macinando, capisco perché il collegamento deve far cagare qua. Allora, dicevamo quello di cui si parlava ieri, ovvero che volevo discutere con voi sul podcast. Ieri invece l'ho fatto, ecco ho caricato la pagina, 7969 ascolti. Quindi, una trentina ad arrivare, domani mattina la vedo dura. Secondo me domani, in serata, arriviamo agli 8 mila. Comunque, molto bene dai, prima dell'episodio 190 ce la facciamo. Dicevo, ieri ho detto, vorrei parlarvi di una cosa, però ve la dico domani perché ora sono quasi arrivato a lavoro e non voglio tagliare l'argomento, voglio parlarne tranquillamente. Allora, beh, mi soffio il naso perché, sì, per rispetto nei vostri confronti. Eccoci qua, siamo tornati, mi sono soffietto un naso, in realtà poco è cambiato, però almeno mi sento di aver fatto il possibile per essere rispettoso nei vostri confronti. Allora, quello che volevo dirvi è che a causa della quarantena, del lockdown e di tutto, ovviamente i miei capelli erano arrivati ad essere in condizioni orribili. E non è che potessi farci il gran K perché i parrucchieri riaprono in inizio giugno, ancora un mese, così non volevo tirarli. E ho detto, sai cosa? Siccome non ho voglia di dare una spuntatina qua, una spuntatina là, rasiamo tutto. In generale ho sempre dei capelli, non dico lunghi, però non ne abbiamo avuti cortissimi. E allora ho detto a mia moglie, sai cosa? Se troviamo una macchinetta, me li rasi per favore. Le fa, va bene, lecce, chiamo la macchinetta. Allora, apro un parentesi interessante comunque. Ho detto, vado su Amazon, cerco una macchinetta e, vabbè, come avete letto sull'articolo del lockdown e Amazon, i tempi di consegna erano assurdamente lunghi, quindi ho detto, beh, anche no. Ho cercato un po' sui 1 euro, eccetera, eccetera, però vado a spendere 30-40 euro per una macchinetta. Mi stavo un po' sul cazzo, essere onesti. Quindi ho detto, vabbè, prima di comprare, perché comunque mi sarebbe servita, quindi le avrei spesi. Però, prima di comprarli, ho detto che spendere, piuttosto che mi compro una nazione della Coca-Cola. Prima di comprarlo, faccio un giro di messaggi, chiedo qua, chiedo là, nessuno lo ha. Alla fine mia moglie fa, aspetta che sento mia mamma. E fa, guarda, ne ho una qua, senza problemi, te la do, tanto io non la uso mai, l'ho qua da 20 anni. Infatti è scritta tutta in tedesco, una macchinetta proprio seconda guerra mondiale, però l'ho presa. Questa serata, ieri, l'altro sera, abbiamo fatto un'operazione, tagliato a un centimetro, anche meno. Non so da quanto fosse il pettinino, comunque super lavoro di mia moglie. Adesso sono con i capelli cortissimi. E qual è stata la riflessione, ovviamente? Che su Instagram vedo un sacco di persone, un sacco di amici che si fanno, fanno la stessa cosa, in sostanza. Dicono, ah, guarda, e taggano i loro parrucchieri, dicono, ah, guarda che capelli, non vedo l'ora che riapriate qua, là, guarda, mi sono rasato a zero, oppure guarda che ciuffo che mi sono fatto, oppure questo, oppure quello. Sarò io, una piglia in culo, rompi i coglioni, che fa i commenti da vecchio. Però, cioè, fare una cosa per farla vedere agli altri, o per dire, guardate, la metto su Instagram perché, perché di sì, ah, ridiamo su quello che ho fatto, eccetera. Quanto, quanto male è? Cioè, o meglio, non è male in assoluto, ma è un po' un problema. Perché? Perché se noi facciamo una cosa per farla vedere agli altri, solo ed esclusivamente, puntando sui like, puntando sui commenti, puntando sul far ridere o sul far pena, o boh, non so neanche io cosa, è un problema perché noi, la nostra soddisfazione e le nostre azioni dipendono totalmente e assolutamente dagli altri. Quindi noi siamo, in sostanza, schiavi degli altri. Mentre, ad esempio, prendo il caso mio, io, vabbè, non mi ergo, non dico di essere superiore a nessuno, semplicemente sto esprimendo le mie opinioni. E se voi avete le vostre, sono ben contento di sentirle. L'ho fatto perché, boh, mi stava sul cazzo i capelli lunghi, tagliarli in maniera media era impossibile senza avere un po' di manualità e un po' di strumenti adatti. Quindi, tagliarli corti era l'unico modo perché li tagli tutti uguali. E quindi ho detto, faccio così, non è che mi sono messo a postare foto, a mandare messaggi, a aggiornare tutti. Ah, guarda, cosa ho fatto, la quarantena, colpo di testa. No, niente, l'ho fatto, ma l'ho fatto per me, infatti, sì, niente, sono soddisfatto. Tra l'altro, è una cosa che, da quando ho iniziato a pensare, ho detto, ma perché no, ma che figata, facciamolo perché così è un'altra cosa che non ho mai fatto, che non avrei mai detto che avrei fatto, tagliando i capelli perché mi piace, piace averli. Non che adesso non li abbia, però, vabbè, diciamo che non è una cosa che avrei mai pensato di fare. Invece l'ho fatta e devo dire che mi soddisfa, è sempre un passo in più verso l'ignoto che ho fatto. Adesso so che posso sopravvivere anche senza parrucchieri, facendomi tagliare i capelli da mia moglie, senza sentirmi a disagio, insomma, ecco, uno magari che non l'ha mai fatto dice, beh, cosa... Tanto poi ricrescono, fra un mese, quando riapro i miei parrucchieri, se ho già preso male un'altra volta, quindi dovrò andare, purtroppo niente di duraturo. Tornando al discorso iniziale, se l'avessi fatto per gli altri, cosa avrei fatto? Foto Instagram, foto Facebook, foto genitori, fratelli, parenti, amici, tutto. Ah, guardate cosa ho fatto, ah, guarda cosa ho fatto mia moglie, ah, risate. Poi alla fine lo fai e il giorno dopo che tu ti commenti, tu te la godi, godi la sera, passi la sera al telefono, che figata, tra l'altro passare una sera al telefono a messaggiare di cose inutili, butti via una sera, in sostanza, e il giorno dopo ti svegli e cosa sai? Non sai più niente, perché ti si ha tagliato i capelli per farlo vedere agli altri e basta, l'effetto è finito, i tuoi capelli te li tieni e la prossima cosa che farai per provare soddisfazione ancora sarà fare qualcosa in base a quello che vogliono gli altri da te, o quello che si aspetta agli altri da te, o quello che tu vuoi fare per far piacere agli altri, in sostanza. È una vita fatta per ottenere dei like o dell'approvazione sociale. Questo per arrivare alla frase, non so se è famosa o no, ma che sto iniziando a introdurre nella mia mentalità da qualche mese, che se tu dipendi dagli altri per la tua felicità, non sarai mai felice e non avrai mai controllo sulla tua felicità, perché ovviamente se io dipendo da voi, se la mia felicità dipende da voi. Io posso fare di tutto per essere felice soddisfacendovi, soddisfacendovi, soddisfacendovi. Però chiaramente voi cambierete, magari non vi piace più quello che faccio, quindi in realtà la mia soddisfazione andrà sempre a inseguire quello che siete voi e soprattutto in realtà quando voi abbandonerete o cambierete sponda, la mia felicità andrà cadendo, mentre se la mia felicità la trovo dentro di me, io ho il pieno controllo su quello che è l'essere felici. Quindi se una cosa non mi rende felice, la cambio, perché sono il 100% in controllo. Se invece una cosa che faccio non vi rende felici e di conseguenza io non sono felice, eh non posso farci niente, cioè alla fine voi siete voi, io non posso comandarvi a bacchetta e dire no, siete felici, perché no, non è così. Quindi l'unico modo per avere il controllo sulla felicità è far sì che la nostra felicità dipenda solo ed esclusivamente da noi stessi e in sostanza non bisogna permettere a nessuno di guastarci il buon umore o di farci star male, perché in quel caso quella persona o quelle persone avrebbero un potere incredibile su di noi. Sono andato un po' lungo, ho fatto esempi forse un po' troppo eccessivi, però secondo me rende molto l'idea di quello che è lo stato attuale delle cose, ovvero il cercare sempre l'approvazione. Invece dobbiamo, anche perché è anche comodo dal certo punto di vista, perché tu dici, eh quello là ha detto così e ci resto male, sì, vabbè, ma è comodo scaricare la colpa su qualcun altro. Previta la tua colpa e di, ah non mi piace questa cosa qua, perché non mi piace, perché così, così, quella. Allora risolvo e risolvi e stai bene, però devi smenarti chiaramente a capire cosa ti fa star male, come far a cambiarlo, eccetera, eccetera. Allora arrivi ad avere dei risultati duraturi e soddisfacenti. In caso contrario è ovvio che se non ci lavori e dà la colpa agli altri il problema persiste o forse si aggraverà. Ecco, questa era la mia riflessione partita dal taglio di capelli, forse sono diventato un po' troppo acido in questo episodio, troppo piglia in culo, però veramente secondo me è una cosa fondamentale, un cambio di mentalità fondamentale, dire la mia felicità dipende al 100% da me. Se non è così è un problema, per quanto ho detto prima, quindi. Se non vi convince questa cosa, o se la pensate in maniera diversa, fatemelo sapere, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, blog, infochioccioladiretanoamiglionare.it Detto questo vi do un tip su come fare post su Facebook, ovviamente tip scoperto per caso. Come avete visto l'ultimo post ha una proposta indecente alla fine. L'ho scritto nel post di Facebook, ho scritto articolo con proposte indecente, punto esclamativo, e sotto ho scritto il solito testo, il link dell'articolo. Bene, questo post è stato visto dalle solite 13 persone, tra le 13 e le 15 vedono i miei post. zero interazioni, con quel post tre interazioni. Quindi è inequivocabile il fatto che renderlo più interessante o un po' più curioso cambi completamente. Quindi questo sarà quello che cercherò di fare. Vi condivido questo consiglio perché l'ho appena scoperto oggi, quindi sicuramente interessante. Bene ragazzi, ci sentiamo domani mattina. Buon pomeriggio, forse domani mattina siamo già 8.000, ma non è detto. Ciao ciao.